Silvano, sentiamo appunto questo progetto che è di prossimo venturo. Sì, il progetto si chiama Riso Phonic, è appena uscito il secondo capitolo che si chiama Nell'acqua. In pratica è un progetto che è stato creato da Mario Riso, che è il fautore di questa cosa eccezionale senza precedenti a mio avviso, che ha radunato i migliori artisti italiani per seguire questo progetto idrico di Amref. Lui essendo ambasciatore ha radunato tutti questi artisti per fare musica italiana, rock, e tutto il ricavato va destinato alle popolazioni del Kenya che sono privi completamente di acqua potabile e hanno costruito finora, in cinque anni, 120 posti, tre scuole e 12 cisterne per l'acqua piovana. Quindi Silvano è una cosa eccezionale. Grazie. Un progetto sociale è molto importante. Grazie a tutti. Io consiglio una cosa, ci sono pochi soldi, lo so, si sa, però se volete fare un regalo utile, a mio avviso per questo Natale, un CD che si trova in tutti i negozi di dischi, su iTunes, dove volete scaricarlo, fate una bella donazione al progetto Rizofonic. Convincente, grazie a tutti. Allora, senti Francesca.